amici amici romanisti con tanta tristezza alcuni lo sanno già e alcuni hanno visto le partite io sono stato malissimo come tutti gli altri romanisti abbiamo perso contro un torino che a me mi stanco a poco come tutte le altre squadre è normale è veramente vergognoso anche tra l'altro Franklin devono cambiare assolutamente devono fare gli acquisti importanti per cui le squadre italiane cioè il cambio alle squadre approfittano perché la roma è impegnata nella champions league come nelle competizioni internazionali è normale che la roma sia sta un po' stanca boh non lo so io a partita la fissaduta Pedro è da dare via direttamente ma veramente direttamente poi questo pastore boh non lo so non lo so Fonseca ha fatto la sua scelta otto ben otto giocatori comunque si aspettava che perdeva completamente la partita siamo fuori da tutti per il campionato italiano da tutti rimaniamo ero poi rimaniamo nelle competizioni internazionali e speriamo che ci affacciamo ad andare in finale oppure magari vincere l'europa league comunque noi romanisti cioè la squadra della roma sta facendo ridere tutto il campionato italiano bastano per l'anno prossimo ci vogliono dei ritrocchi perché proprio ci vogliono veramente un pastore o mamma mia poi un caro perez non lo so si vede che mancava a parte pellegrini poi di arra avuto il cartellino rosso strameritato ovviamente questo ritocco che dove fare la roma dovrebbe fare prima uno è importante l'allenatore perché a me non mi è mai piaciuto e due centrocampisti centrocampisti vogliosi di giocare a pallone perché si è visto un Villar completamente morto comunque aspettando l'Atlanta la roma sicuramente con l'Atalanta quindi è arrivato a un certo punto che a roma se ne sbatte i coglioni come ha sempre fatto vediamo cosa succede in semifinale contro l'Arsenal questo è un campionato completamente strano non c'è non ha il tempo di poter preparare le partite come si deve non c'è tempo lascio il tempo del tempo io sto male vediamo contro l'Atlanta o perde o vinca io a partita la vedo lo stesso comunque cosa devo dire con desolazione forza roma forza roma forza roma dagli fra poco per riposare perché ci stanno gli orvi ok andiamo bene io europei non ti vedo vediamo un po' la roma cosa farà il cambiamento di Franklin oppure che vendono la roma comunque io ho visto la faccia di Cairo che era convinto che insomma tutti quando giocava la roma la allora la le squadre che si devono salvare stanno non lo so c'è qualcosa che non va comunque l'Atalanta sicuramente non chiederà nulla perché Torino secondo me ha chiesto qualcosa ai Franklin a signor Cairo si devono far conoscere un sistema cioè in questo sistema in questo campionato italiano il calcio italiano si devono far conoscere questi texeni texeni come cazzo li chiamano loro e si fanno conoscere un altro modo perché c'è qualcosa che non va avete capito? c'è qualcosa che non va avete capito? comunque vediamo cosa succederà contro l'Atalanta e con questo dirò sempre forza roma forza roma forza roma perché io come gli altri difusi sicuramente abbiamo una speranza ma anche l'anno prossimo ma chi se ne frega che se non entriamo la Champions League devono stare molto attenti i presidenti i due padre e figlio dovete comprare dovete cacciare i sordi è nulla che sta a vedere sta a vedere questo portugese che non vale una miglia comunque se la Roma vince in ogni partita oppure è che ci mette tutto il cuore è colpa dei giocatori non è colpa degli allenatori dell'allenatore non v'è stata preoccupata è proprio così non c'è niente da fare peccato perché i migliori ci mancava la spillazzola non c'è niente da fare comunque ci vediamo contro l'Atalanta nel prossimo video ciao